Salmo 15 Signore, chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà sul tuo santo monte? Signore, colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente, non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spreggevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se giura a suo danno, non cambia, presta denaro senza fare usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Grazie